allora buongiorno oggi montiamo il pc nuovo perché questo qua ormai mischino è arrivato e quindi abbiamo pezzo grosso pezzi piccoli e altri pezzi piccoli prendiamo gli altri pezzi piccoli tra mazza quanto pesa scheda audio riciclata da un altro computer scheda video si giusto la scheda audio è quella ventola di come si chiama? dissipatore... no lo mettiamo qui perché poi facciamo così tastiera da 10 euro riciclata da un'altra parte cavi riciclati carta, scheda grafica, cioè vabbè non lo inserto ti c'è un po' più di entusiasta però allora ti è fallo tu fallo tu abbiamo qui il nostro tecnico esperto di computer a chi mi sto rivolgendo? a tutto il grande pubblico di youtube e ai tuoi... no siamo arrivati a 35 32 non lo so ma i tuoi posteri capito i tuoi poster? va bene allora in caso io passi a miglior vita si va bene insomma per andare avanti dopo che abbiamo disco usata per le librerie e ram da 32 giga 2 da 16 si e dopo di che il pezzo forte che è anche quello più piccolo che però costa più di tutti messi assieme perché sono tipo 450 euro di processore questa scatolettina cioè questo gigino qua 450 euro rimortacci loro va bene passiamo al montaggio la prima cosa che dobbiamo fare è mettere questo qua dentro e metterci quell'aggeggio di sopra giusto? il tecnico è d'accordo bene il tecnico è d'accordo io non ho neanche verificato se stiamo registrando però dovremmo stare registrando ho schiacciato rec si ho schiacciato rec lì e ho schiacciato rec pure nell'audio perché ho il microfonino qui e ho l'altro qui io mi sono vestito bene non come lui che si è messo la prima cosa che ha trovato nell'armadio guarda guarda le sue scarpe guarda le mie scarpe vuoi mettere vuoi mettere vuoi mettere lui che si è alzato dal letto e non si è neanche pettinato io invece che ho perso le ore a farmi la messa in piedi ingegnere andiamo a fare io riprendo e ti dico quello che devi fare e tu lo fai vabbè che caldo ti sei lavato le mani l'ingegnere dice che mi devo lavare le mani per lavarmi le mani mi devo lavare il microfono ma andiamo direttamente là dentro come abbiamo detto no siccome siccome le mani un po' fituse fituse meaning anche il pubblico ormai certo abbiamo un pubblico internazionale allora il concetto è che siccome questa cosa non deve prendere polvere soprattutto non deve andare grazie questa cosa è una scheda madre e alle madri bisogna portare rispetto mi sembra giusto siccome siccome qui non ci deve andare polvere e qui non ci deve andare polvere si era pensato di andare in bagno per la caduta spieghi velocemente ingegnere la cosa scientifica del deposito del polviscolo atmosferico mediante in bagno c'è più umidità l'acqua si combina con le particelle della polvere essendo poi già stanno dormendo andiamo quindi pensaci tu all'unboxing mi raccomando e allora ti vai tu a lavar le mani al posto mio le gambe le sono lavate ma le mie non le hai lavate dottore va bene così io mi devo mettere anche i guanti e la mascherina anti polvere covid tra l'allero tra l'allam il pc si monterà allora lo rimettiamo qui questa già l'abbiamo presa siamo a 6 minuti non abbiamo ancora fatto nulla e tu sei convinto che noi oggi riusciremo a finire questo sarà un video a puntate allora allora intanto non si trattano le cose con più rispetto tagliabalza ma che tagliabalza è già aperto è già aperto lui è prato perchè perchè cosa cosa intanto godite no no si di che estraila come c'è un verso non l'hai mai fatto devo farti vedere come si fa per la prima volta si la guardi queste cose pure hanno il loro verso di essere toccate la poggi no ma sto guardando ma no che la piglio si è più delicato sono delicato mica la sbatturé io aspetta aspetta si deve fare sulla scatola perchè si deve fare sulla scatola perchè qua è fitoso comunque non la tenere con una mano va bene non importa questi sono tutti gli stencil e peti che aspetta ah figo guarda c'è questo questo è l'emblema del fatto che tu hai comprato una scheda msi e dovrai affiggerlo sul computer in modo che tutti lo sappiano appena entrano e vedono il computer ma il computer si mette nell'angolo dietro la cassa non lo vede nessuno non importa ti hanno regalato anche due capisata in omaggio wow dopo che gli ho dato quanta che gli abbiamo dato? 300 euro 180 180 euro e mi regalano 50 centesimi di cavo che gentile non costano 50 centesimi quanto costano? non so 5 euro non ho una pezza non lo so 5 euro no anche di più in due 7 euro comunque mi regalano 7 euro grazie per aver acquistato il nostro prodotto prego spicciamoci se devi fare le cose di fretta non le facciamo io ho fretta di avere il pc no guarda che carino tutto questo me lo godo usandolo no questo è il manuale per spuntarlo si ma tanto non me lo leggo questo ma possiamo fare una cosa tu ti leggi le cose e lo monto io lo so già come si fanno volevo farlo imparare a te ma io l'ho fatto quando tu ancora prendevi il biberon intanto io lo so fare meglio di te adesso viti si che perderemo sicuro perchè sono 3 viti seriamente 3 boh allora posso tirare fuori o si offende ora si tira da fuori però non la pigliare da quel coso fai un supporto non la pigliare dal dissipatore non la prende dal dissipatore faccio così e così ti piace? spoglierla con delicatezza delicatissima senza farci entrare troppa sputezza dentro dobbiamo mettere il processore questa è scatolina brutta questa è scatolina vuota e questi sono 450 euro 60 euro godi da l'ora perchè questa cosa non la vedrai mai più oh questa cosa non si vedrà mai più questa cosa è vero questa cosa non si vedrà mai più oh ok questo si spinge un pochino in basso poi si alza le pinne sono sotto ma prima li facevano al contrario quindi sono a contatto giusto? non c'è niente che si incastra si ecco lì ce l'intacco perfetto ora puoi esatto perchè fa questo brutto rumore? è molto premuto si non ho sentito il rumore di roba che strisciava tu in teoria staresti riprendendo vabbè cos'è? problemi? no io ero abituato con 4 adesso sono diventati cioè 8 adesso sono diventati 10 e quindi? problema? buh non lo so spero c'è la birra alimentatore forse ci sono problemi guarda comunque zanzanzan anzi togliamoci il pensiero adesso togliamoci un pensiero bam bene direi che questa era la fine della prima puntata e ora noi continuiamo con la seconda puntata però poi lo vedrete una prossima volta perchè sennò poi vi rompete le palle che il video è troppo lungo quindi facciamo finta che ci salutiamo e ci vediamo fra ora quindi ciao ciao